A questo... Mercoledì 7 novembre, San Severino, è il 311esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 54 al termine. Il sole sorge alle 6.59 e tramonta alle 16.53. La luna sorge alle 6.24 e tramonta alle 17.12. Concorrendo con Marin Faliero e Andrea Dandolo, con 32 voti viene eletto Doge Bartolomeo Gradenigo, all'età di 76 anni. Le previsioni per domani. Sulla pianura generalmente alternanza di nuvole e rasserenamenti. Fino all'alba nebbie sparse su costa e zone limitrofe, locali altrove, che si dissolveranno in mattinata e si ripresenteranno di sera. Dal pomeriggio nuvoloso sulla pedemontana. Sui monti cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Probabilità bassa di precipitazioni, in prevalenza assenti. Localmente modeste, più probabilmente dal pomeriggio e su zone pedemontane e montane, con quota neve attorno ai 2000 metri. Temperature in leggero calo. Grazie.